benvenuti all'italiano ed intorni oggi scopriamo che cosa vuol dire essere in bolletta o non avere un quattrino non avere il becco di un quattrino essere in bolletta significa la stessa cosa cioè non avere un soldo in tasca ma da dove derivano questi modi di dire allora ci sono tante origini la prima ad esempio vuole fare riferimento al becco che essendo piccolo contiene ovviamente poco la seconda invece che il quattrino erano quattro soldi fiorentini per cui per fare un quattrino ci volevano quattro soldi e da lì quattrino ma quella più attendibile potrebbe essere riferita alle monete fiorentine dove c'erano praticamente disegnati sopra un rostro che era uno sprone di bronzo che serviva alle navi romane per agganciare quelle nemiche e poter fare da ponte per combattere come se fossero state a terra ecco il c'è questo rostro aveva la forma del becco ecco perché da lì viene proprio becco e quindi appunto non avere un becco di un quattrino diciamo che molte sono le possibilità però in realtà mi piace fare riferimento al fatto che il becco contenga poco insomma essere in bolletta è la stessa cosa cioè la bolletta pensate era una lista pubblica dove venivano inseriti i nomi delle persone che non avevano pagato i loro debiti per cui era una gogna per le persone fallite ecco essere in bolletta prende riferimento proprio da quella bolletta da quella lista che era chiamata effettivamente bolletta e alla prossima con altre parole da scoprire